Ciao a tutti, come funziona la speed seduction? E che cos'è la speed seduction? La speed seduction è una seduzione rapida, è un metodo che viene elaborato da Jeffrey Ross diversi anni fa e funziona basandosi su una cosa molto semplice, sul fatto che noi per elaborare una parola, un'informazione dobbiamo viverla in qualche modo e quindi questa tecnica si basa proprio su questo e come avviene? Ebbene avviene creando degli ancoraggi emozionali, una sorta di ipnosi comunicazionale quindi mentre parli con la persona utilizzi dei comandi incastrati, ad esempio io sto parlando ad esempio con una donna e dico ma senti ti è mai capitato di incontrare un uomo, metterti a parlare, mentre ascoltavi così il suono della sua voce lo guardavi negli occhi, hai sentito una profonda attrazione nei suoi confronti e quasi come se tutti i tuoi ormoni, le tue gambe fremessero, avessero proprio voglia di provare diciamo a fare sesso con lui, un qualcosa che non ti sei spiegato, che ti è capitato proprio mentre lo guardavi negli occhi e sentivi proprio nascere dentro di te questo fuoco che ti trasportava verso di lui ecco dicendo questa frase io ho creato diciamo una sorta di ancoraggio, ho cercato di descrivere in modo tale da far vivere a questa persona questa forte attrazione, se non l'ha vissuta se ne sarà comunque appropriata ascoltandomi e l'ancoraggio è stato che comunque io lo sto guardando negli occhi le ho ascoltato il suono della mia voce, io quando parlavo puntavo verso di me quindi questi sono metodi di seduzione rapida perché inducono rapidamente, quasi istantaneamente uno stato di attrazione, partendo da questo stato di attrazione bisogna poi produrre un po' di comfort cioè un po' di intimità con la persona, fare quindi un po' di mirror, un po' di ricalco e poi bisogna subito diciamo andare a un contatto fisico un contatto fisico se la persona l'accetta si passa istantaneamente al bacio quindi da quando inizia la tecnica di arrivare al bacio ci potrà volere mezz'ora, un'ora, non di più poi ovviamente dipende un po' da come vanno le cose, si può anche approfondire tutto questo discorso bene per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici, ciao